Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre tornano a Carimate i mercatini di Natale, un appuntamento attesissimo da appassionati e famiglie e che si svolgono come da tradizione nella magica atmosfera dell'omonimo castello. Durante i giorni della manifestazione il centro del paese resta chiuso al traffico e tutti coloro che vorranno farvi visita dovranno parcheggiare in prossimità dei posteggi della stazione ferroviaria dove durante gli orari di apertura sarà attivo il servizio navetta gratuito che porterà tutti i visitatori direttamente all'ingresso dei mercatini. Un appuntamento atteso da grandi e piccini in quanto durante le giornate di apertura sono davvero tantissimi gli eventi organizzati per tutti. Oltre alle immancabili bancarelle di prodotti culinari si possono trovare obbisti di ogni genere con prodotti artigianali inerenti al Natale e non solo dove i visitatori potranno trovare insolite e particolari idee regalo ma anche curiosità per arredare la propria casa. Ricchissima anche l'offerta culinaria infatti durante tutta la manifestazione è aperta la cucina con tantissime specialità tradizionali del territorio come il Festival della Polenta e le specialità pugliesi alla griglia. Le varie cucine resteranno aperte ogni giorno dalle 10 del mattino fino alle 20. Per i più piccoli e per rendere ancora più bella l'atmosfera natalizia è presente la casa di Babbo Natale uno spazio fiabesco dove tutti i bambini vengono accolti da figuranti vestiti da elfi e all'interno della quale potranno dare sfogo alla loro fantasia con tantissimi laboratori, animazione e consegnando l'immancabile letterina direttamente a Babbo Natale. Oltre ai mercatini il centro storico di Carimate merita comunque una visita oltre che per il suo meraviglioso castello anche per le tranquille vie immerse nel verde con tanti parchetti dove trascorrere un po' di tempo in tranquillità ma anche per visitare la bella chiesa parrocchiale e soprattutto l'antico oratorio di Santa Maria dell'Albero che conserva dei meravigliosi affreschi del XVI secolo al suo interno. Il mercatino di Natale a Carimate è aperto quindi fino a domenica 11 dicembre dalle 10 alle 20 per poter rivivere la magia che solo questo meraviglioso borgo e il suo magnifico castello possono offrire.